3, 2, 1, go! Buonasera ragazze e ragazze per venire in questo nuovo video Allora, oggi finalmente trovo di registrare un video che si tratta e vi faccio vedere i miei cover come avete detto dal titolo e niente vi voglio dire scusa se lunedì non ho registrato vi ho detto che registrarò martedì e non ho registrato neanche mercoledì quindi non ho proprio registrato lunedì, martedì e mercoledì quindi mi dispiace davvero sorri, sorri, sorri ma venerdì, quindi domani uscirà un nuovo video se ci riesco ragazzi, quindi forse escerà un nuovo video detto questo vi faccio vedere i miei cover allora, vediamo un sacchissimo dei cover che stanno tutti in questo barattolo ok? e vi faccio vedere uno alla volta perché ovviamente non posso vedere due alla volta vi faccio vedere una questa è qua rigida e ne sono non va bene le cover cadono uno, due, tre, quattro e cinque ne sono cinque allora, insomma la prima che ti è questa qua della Marcello Burlon questa come mi c'è il negozio la Marcello Burlon è una 44 euro tutte le cover sono 44 euro solo una costa passai ancora qua questa è un po' spezzino se spezzate mi dispiace davvero passiamo alla prossima sempre questa qua ma dal negozio della Marcello Burlon è 44 euro ovviamente sta anche la marca sia dietro sia avanti e è di un lupo con la mente mi piace tantissimo altrimenti se io il telefono cade si rompe ma non si rompe la fratellina qua invece mi si è rotta perché io l'ho rotta mi piace da morire questa cover infatti certe volte me la mettivo però non me la metto più troppo bello perché c'è pure il simbolo mi piace passando avanti questa qua un euro in più quindi 45 euro comprato non mi ricordo dove adesso non mi ricordo dove però la la marca è Supreme passando avanti però questa qua 44 euro nel negozio della Marcello Burlon eccola qua sempre un'altra Marcello Burlon 47 euro 2 euro no 3 euro in più perché questa qua è più fine quindi è più bella vede qua ok ora passiamo alle prossime sono le semplici che ne vengo un sacco di semplici non è io ne vengo un sacco eccomi allora tengo tutti questi semplici tengo questa qua gialla che l'ho comprata io gialla e poi c'è messo questi ed poi questa qua la cover gialla normale l'ho pagata 5 euro già al mercatino poi passiamo alla prossima questa qua rosa che me la mettevo per la casa scambiata sempre comprata insieme a questa poi passiamo insomma la prossima anche questa qua era solo nera e l'ho comprata insieme a queste due stella zitta vabbè il mio è notato perché è scemo cioè è scema e ovviamente c'è il mio cosetto per fare musica e sta scritto quel che sta scritto principista significhe tutte queste tre cover insieme le ho comprate insieme queste quante passiamo nelle prossime che sono altre che è questa qua rosa con il cuore qua c'è uno spicco io l'ho rotto costa 10 euro giù al mercatino cioè in un mercatino l'ho trovata poi questa qua wicon 25 euro questo è troppo bella perché è una morbida troppo bella e mi piace la moglie passiamo alle prossime questa qua azzurra invece non mi ricordo dove l'ho comprata e anche quando quanto l'ho pagata sì 10 euro l'ho pagata è tutta celeste passiamo alla prossima questa qua era quando ovviamente l'ho comprata prima che mi comprasse il telefono e ovviamente con tutti i bordi argento e qua sta scritto F più F passiamo alle prossime che sono le ovviamente le più come devo dire vabbè comunque non levo pure questa qua che è una una sui metafone le 5 euro allora non c'è prima niente passiamo alle prossime che sono le più belle a me mi piacciono ok è questa qua sta scritto quen ovviamente pagata insieme a questo ovviamente questa qua l'ho presa questa l'ho presa un negozio buono non mi ricordo dove non mi ricordo dove comunque queste qua invece con le sigarette non smoking sarebbe non fumare non fumare che con lo slime l'ho scambiato con lo slime viola che vi ho fatto vedere ok poi passiamo alle prossime che sono queste due che è questa qua con i baci che è normale l'ho pagata 10 euro da un mercatino poi invece questa qua insieme a questa qua quindi tutti e due l'ho pagata 10 euro tutto mi è venuto 20 euro tutto al mercatino poi passiamo alle prossime che sono quella con l'acqua questa dentro che ne sono due proprio e sono questa qua che si muove di più ovviamente sempre da un mercatino 10 euro lo pagate no questa qua 25 questa qua 25 ragazzi questa 10 euro quindi in tutto non mi ricordo quando mi è venuto a fare scrivete sotto i commenti non mi ricordo comunque io ho sempre paura perché se no se casano si punte questa cosa perché si muove se io premo sopra se muove poi passando a questa prossima che invece questa qua non ho poco dubbi solo un poco se in caso perché si muove solo un poco la cosa che mi da faccio più è la bolla comprata insieme a questa qua questa qua 25 questa 10 euro da un mercatino passiamo alle prossime che sono che è solo una cioè stanno altre due però sono le più importanti facciatele dopo sono queste qua questa qua invece con le moji che ride e vedete questa è rotta ovviamente costata con mercatino insieme a queste due l'ho pagata 10 euro con questa passiamo ai prossimi sono davvero nel cuore la prima è questa qua dei me contro te ovviamente con il simbolo dei me contro te pagata 15 euro personalizzata cioè no 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 personalizzata ragazzi certo l'ho fatta personalizzata con ovviamente le maglie però invece questa qua è proprio la loro online l'ho presa poi facciamo ai prossimi che mi ha regalato il mio fidanzato questa qua con la mia foto non so dove l'ha comprata quanto ha pagato perché non mi ha detto niente e un po' se scambiata perché la uso sempre quindi quindi comunque questo era il video spero che vi sia piaciuto io mi mando un grandissimo bacione su musical.ly mi chiamo Luciana Montuoto sotto se ha scritto Luciana Montuoto perché non ho sbagliato perché volevo mettere io così eh raga poi invece su Instagram mi chiamo Francesca Perillo 504 71 andatemi a seguire sia su Instagram sia su musical.ly io mi mando su musical.ly su musical.ly mi mando un bacione e vi chiedo ancora scusa se lunedì martedì e mercoledì non l'ho registrato scusa tantissimo quindi domani tutti attività c'è un nuovo video che è questo il video di domani serissimo ragazzi cioè non è che sto così un po' allegra oggi sto così così domani è ancora peggio perché domani c'è una cosa importantissima da dirvi che è tanto che vi voglio dire quindi mi mando un bacione nel prossimo video ciao 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 ciao